Queste ragazze hanno fatto abbastanza bene anche in Georgia due anni fa, siamo arrivati veramente a un pelo della qualificazione nelle prime posizioni perdendo di un gol con la Serbia, quindi credo che queste ragazze abbiano un potenziale, questo stage è uno stage un poco diciamo con lati positivi e negativi perché abbiamo potuto sia allargare la convocazione ma mancano delle ragazze che stanno facendo la maturità, noi siamo contenti di aver fatto questo giro d'orizzonte. È sempre difficile ovviamente fare paragoni tra generazioni, probabilmente non è nemmeno corretto, però sicuramente veniamo da campioni in carica quasi a questi championship e per queste ragazze anche da questo punto di vista è una piccola responsabilità in più. Tutti ci ricordiamo il bellissimo successo del 2021 qui a Chieti, hanno una responsabilità in più ma penso che abbiano anche delle caratteristiche abbastanza simili a quelle che hanno vinto, nel senso che magari c'è qualcuna che era già più forte di tutte in quella generazione, già giocava in Nazionale Senior, anche qui ci sono ragazze che hanno avuto esperienze in Nazionale Senior. Noi pensiamo di avere un buon gruppo a disposizione, abbiamo lavorato poco con questo gruppo perché dall'ultimo championship, praticamente nel 2004-2005 si sono ritrovate adesso, a parte quelle che hanno giocato dalla Nazionale, ma crediamo che il talento ci sia, sia soddisfacente e noi pensiamo di avere a disposizione delle ragazze e delle atlete con un grande potenziale. Che tipo di approccio o di predisposizione avete avuto dalla squadra in questo raduno, in questi giorni? Intanto una buonissima voglia di allenarsi, che non è facile, con questo caldo, con questo dopo tante partite giocate, dopo i campionati Under-17 e Under-20, soprattutto una voglia di imparare, questo ci piace perché alcune hanno avuto la prima opportunità di giocare in una selezione nazionale e questo è anche secondo me un lavoro importante che dobbiamo fare, dobbiamo diffondere un po' il verbo della pallamano di alto livello nella pallamano femminile che sappiamo tutti a livello giovanile non è facile. È un raduno che integra anche diverse giocatrici del Bienio ancora inferiore, del Bienio quindi che poi giocherà i Championship Under-17 in agosto, anche da questo punto di vista questo raduno è stato utile? Sicuramente anche con Liliana Ivacci che è responsabile di ETA della squadra 2006-2007 abbiamo pensato che portare qualche ragazza qui per dargli un po' più di esperienza e un po' più di continuità di allenamento può far altro che bene, quindi siamo convinti che ci sia un miglioramento a frequentare ambienti dove c'è la meglio gioventù della pallamano femminile. Le ragazze sono al loro secondo appuntamento perché purtroppo a causa della pandemia non ci sono state molte possibilità di incontrarsi però sicuramente hanno fatto un percorso di crescita enorme perché ogni tanto mi fermo a pensare a come erano quando abbiamo avuto la nostra prima esperienza in Georgia e adesso sicuramente forti del loro cammino di crescita all'interno delle proprie società, sono un gruppo molto interessante, un raduno della nazionale è una grande opportunità anche per le più piccole per cominciare a respirare l'aria della nazionale maggiore comunque perché in ogni caso Under-19 è sempre superiore rispetto all'Under-17 ma sicuramente anche le ragazze più giovani hanno un grande talento e hanno grandi possibilità nel loro futuro e quindi sicuramente il fatto di stare qui è importante per loro ma anche importante per noi per cominciare anche a gettare uno sguardo in prospettiva di una continuità giovanile perché comunque loro sono ancora di più all'inizio del loro cammino e si stanno integrando bene, le ragazze che stanno facendo la maturità sicuramente stanno vivendo un momento di stress e alcune di loro sì hanno già avuto la prima esperienza in Georgia e quindi diciamo che è una specie di trampolino di lancio per alcune di loro che possono comunque guadagnarsi un posto importante in un palcoscenico europeo però è sicuramente anche un modo per cominciare a crescere anche dal punto di vista tattico perché sicuramente ci sono anche delle combinazioni o dei contesti di gioco diversi rispetto a quello a cui sono abituate però è proprio importante il fatto che siano qui alla fine di un anno pieno di partite, di campionati ecco il fatto che loro si siano messe a nostra disposizione con questo entusiasmo sicuramente ci fa ben sperare Ci siamo noi e poi naturalmente ci sono le avversarie, che livello ti aspetti di trovare in questi championship? Sicuramente diventa un po' difficile cercare di capire quale possa essere il livello perché comunque è passato tanto tempo dalla prima esperienza sono cambiate le squadre che affronteremo e queste sono le classiche manifestazioni in cui è importante iniziare bene perché le prime partite servono sempre a sciogliere un po' il ghiaccio però è un pochettino così, non dico al buio però non è facile capire quale possa essere il livello prima che affronti certe compagini però ecco noi dobbiamo sicuramente pensare a quello che possiamo dare e concentrarci su quelle che sono le nostre potenzialità cercando di esprimerle al massimo e poi ecco di giorno in giorno prendere anche magari più consapevolezza di squadra perché comunque da tanto tempo che non giocano insieme al di là della loro esperienza individuale e personale del club però ecco di solito ci sono sempre dei grandi margini di crescita all'interno di un championship e quindi l'importante è partire bene e aumentare di giorno in giorno le nostre potenzialità e la nostra fiducia.